Benvenuto a Nicolo Vezzoli di Cressanteria Lab, a questa prima esperienza a Ray Panettone. Quali sono le impressioni? Siamo molto contenti di essere partecipati a questa iniziativa, è la prima volta, eravamo molto entusiasti e la risposta del pubblico è stata molto positiva, il panettone piace, lo assaggiano, lo provano, lo tornano, lo comprano e quindi come prima volta siamo molto contenti. Quali novità ci avete portato? Quali dolci ci avete portato? Allora noi abbiamo portato due versioni di panettone, il panettone classico, che è quello che è una versione nostra che ha delle gocce di limone e diciamo che l'impasto è sempre quello del tradizionale, solo che senza candita e senza uvetta, con l'aggiunta di queste piccole gocce di limone che danno quella freschezza all'interno del dolce natalizio. Come è stato trovarsi con tutti questi pasticceri, anche di un certo calibro, così vicino in un ambiente dove diciamo si è abbastanza contigui. Ma guardi ci siamo trovati benissimo, molti altri pasticceri conoscevamo già, avevamo già 8.000 rapporti quindi diciamo che è stato un lavoro insieme diciamo, ci siamo trovati molto bene. Allora vi facciamo i nostri complimenti, buon Natale, buon panettone, buona sera. Grazie anche a voi. Grazie a tutti